Insieme a lui, insieme ai ragazzi, a tutta la società e ai tifosi, abbiamo scritto un'altra pagina, una pagina stellata, una pagina stellata, molto benedice, Simone! I Stati! Simone Inzaghi, 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 Simone Inzag fantastici giocatori, penso che sia un premio meritato per tutti voi, per Salvi e su Salvi siamo noi perché ve lo siete meritati.